Via Libera l'emendamento che equipara tutte le zone rosse del territorio nazionale. L'emendamento che ha visto come primo firmatario il deputato di Leo Federico Conte ha reinserito nel decreto rilancio tutte le zone rosse che erano state escluse dal provvedimento del governo che ha stanziato 40 milioni di euro. Tutti i comuni italiani dichiarati zona rossa, tra cui i campani del Vallo di Diano ed Ariano Irpino, avranno sostegni e bonus se accederanno al riparto dello stanziamento di fondi. Bene, il governo sottolinea Conte ad aver capito la necessità di una corrazione dando il Via Libera alla modifica.